La app BancoPosta è stata completamente ridisegnata per offrirti servizi avanzati e un'esperienza d'uso migliore. Può aiutarti davvero molto, con massima sicurezza e comodità. Puoi gestire facilmente il tuo conto BancoPosta e le tue poste pay. Puoi pagare i bollettini postali, inviare denaro in tanti modi, anche con Monigram. Puoi persino ricaricare le poste pay e i telefoni cellulari per poste mobile e dei principali operatori. E scoprire anche altri servizi innovativi. Cosa devi fare? Semplice! Scarica subito l'applicazione per iOS oppure Android. È gratis! Ecco la schermata principale dove c'è tutto quello che ti serve. Devi pagare un bollettino? Tocca l'icona. Ops, dimenticavo. Prima di poter utilizzare i servizi, devi attivare l'app e inserire una delle tue carte BancoPosta. Parabbi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.